benvenuto su minecraft tu telespettatore oggi sei con me e nick ciao 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 a tutti guardate il capolavoro di nick questa è una casa finita facciamo un giretto panoramico guarda che bella paita che ha creato sto ragazzo che arte è venuto abbastanza bene dai sì sì perfetto e oggi il signor nick volevamo andare in caverna per guadagnare i primi materiali per iniziare a fare qualcosina di più decente nick illustraci dove vuoi fare la caverna dai panorama non ne ho proprio per me benissimo sembra carino questo come il post si si ma a un certo punto siamo qua si dai tutto buio ho paura sono claustropodico ok boom che schifo ragno uccidi uccidio sento un po laggante nick che stai combinando non lo so bravo e nuovo e su minecraft nomina forse l'angostro è la chiamata che lagga diciamo leggermente e che trovo porca puttana il quartiere sbagliato troppo esatto ok metà poco l'arco oddio che figo sembra tanto quello dei no dai sei diventato arro ma hai tolto quattro cuori fermati raggi raggi perché mi stai donando tutto sto bel video grazie e perché perché sono gentile e comunque la era si fermava lì quindi aveva ragione e dobbiamo riprendere come se non l'aggassi senti come l'agga nick non sto parlando è ok perché non ti sentivo più pensavo che il ventile andiamo vabbè dai iniziamo fatta caverna da qualche parte nulla io avevo visto prima una caverna che andava bene in profondità però non mi ricordo dov'è complimenti beh grazie oh altre canne ganja canne barraganti oddio che bello no perché non si può perché non si può ma se ne facciamo qua la cavernuzza guarda qua che bella entrata per la cavernuzza dove 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 ce la scaviamo noi la cavernuzza un giorno stai mandando un messaggio all alfabeto morto fecchè quella closes chi 3 va bene è l'armatura poi c'è armatura spade di tutto di più e che ballano si fermano sempre qua allora dobbiamo andare alla ricerca io c'ho trovato un po' ti aspetta che sto finendo di raccogliere ci spinta la luce non si ho ho paura ho paura dove si ferma? andiamo a vedere andiamo a vedere what e lì Nick devi aggiustare la tua connessione internet sta andando di merda abbandona il party a sto punto vabbè così almeno c'è più internet c'è vero ok ok almeno dovresti lagga un po' di me ora mi senti laggare? ma non oh è comparso il tuo nome Nicola quando hai abbandonato il party allora dove andiamo? dove andiamo a cercare sta caverna? oggi è la puntata alla ricerca della caverna senza quella ah non ho ne idea ehhh dovrebbe esserti ma perchè? oh guarda quanta roba buona si tu ti dè è buonissimo le alzate secondo dai poi quanto piano di grande facciamo un urnette facciamo la merenda con le caroteine che succede amico? mi faccio la pappena mi stava più simpatica la pappena da tappi e da ragione di cacciata cacciacomillo ahahah sai dopo che adesso andiamo a staccarezza di me eeeh non lo so facciamocela noi facciamocela noi iniziamo a scavare di nulla si ok va bene vai mi sono rotta un po' anch'io andiamo a farla sottocampano o facciamo qua che siamo un po' più distanti ma che c'è la stragina è fantastico si hanno fatto tutto perfettamente infatti noi iniziamo qua perchè siamo strozzi esatto fan culori stradini esatto ok facciamo i scalini così poi volevamo i scalini vabbì ecco l'avemo di qua dove andiamo? ok non usare piccoli che scegno sprecchi per la roccia hai ragione quanta ignoranza nei miei contro ah nick sta scavando troppo di carri di scaletti tipo eh la scaletta c'è eh fai uno così uno così scavi uno uno no vediamo qua c'è un cazzo perfetto andiamo avanti guarda i materialoni che stiamo trovando niente io sto facendo a chiacciola ah no a chiacciola poi non troviamo un cazzo di materiale se scavamo a co ti sono bloccato eeeh che stai facendo nick fai a scaletta a guarda guarda che aiuto a o è caduta la cia sta facendo un mien eh si ci sbrighiamo che spona di libero allora tac la porca vedi ok facciamo tipo le scalette così così potremmo risaltà ok ok bambini avevo afferrato l'inizio non mi avevi capito esatto ho messo le torce eccole un po allora torcia anzi però dovremmo tipo metterci un po' più grande lo spazio perché sennò ecco il perro un po' piccino il culo senza di me non l'ho trovati erano cioè c'è un metal detector esatto metal detector incorporated umano di che c'è che c'è tipo i rancini se trovi materiali vero nick no non uso i trucchi non è vero ok solo un po' di ferro cioè sarebbe carbone siamo un po' a colpo di carbone ho finito il piccone un piccolo dettaglio che abbiamo trascurato come se sei andato in caverna con mezzo piccone bravo t'aspetto fanico ok va bene sbrigati chi sta fa notte un po' tanto c'hai le torce si però più che altro perché ti ammazzano i mostri eh lì dipende dalle skill del player poche parole se è automaticamente morto notte morto ehm allora dai corre steve romino muoviamoci quante partite vuoi fare facciamo tipo 2-3 puntate in minerozza però si dai mi saluto il piccolo che io poi devo fare tipo l'abbellimento del giardino devo fare l'orticello la piscina queste cose che molto molto ottamarre esatto non servono a una beata minchia però fanno uno stile no no esatto non serva proprio un cazzo fanno uno stile io odio minecraft brain mining mi piace costruire ma odio la minera ehm eh beh perché è necessario però è faticoso esatto è una rottura di scadone più che altro si io me ne ho fatti due di cosa di golosi uh ferro altro ferro lo sai di cosa 25 cm d'uomo esatto spettacolo spettacolo aspetto il venerdì solo per quel programma ora ma quanto cazzo io non io non solo per quello eh 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 pubblicità con anche per la puntata di c il video dei chip di minecraft uscirà il lunedì in percoli dì e il venerdì sul canale forse anche la domanda giusto nick? sì esatto perché noi siamo monica nooo non dire queste cose che poi scattori i pregiudizi e c'hai ragione pure due 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 note di che tu ancora non tu mi ho paura che tu sia morto no non sono morto sto arrivando sto arrivando ho trovato un po' ti erro cioè oggi l'abbiamo trovato abbastanza bene no stai leggando anche tu un poco eh non ho capito un cazzo no ho detto cioè abbiamo trovato parecchio ferro in questa puntata non ci possiamo lamentare no no aglio sventola mi ha messiato e no ma grazie mi sembra essere un personaggio io sì se avete fatto caso io avevo tipo 3-4 livelli nelle scorse puntate e nick mi ha ucciso la notte mi ha fatto perdere gli unici livelli che avevo guadagnato sì perchè io stavo mi serviva la scuola mi serviva la sua accetta perciò eh bravo bravo schifoso lo so lo so va bene nick siamo a 13 minuti io direi di fermarci qua per la prima puntata sì va bene se lei è d'accordo ci prendiamo qua scusi signor nick non ho fatto basare no no ma ci mi uccidi pazzo allora da nick e gambero è tutto presto una nuova puntata di sempre minecraft che come abbiamo deciso è lunedì mercoledì e venerdì sul nostro canale bella ciao ciao Ciao!